Hai fatto acquisti e adesso è il momento di tornare a casa. Ma cos'è questo rumore? Sotto ai tuoi piedi i gradini stanno andando in pezzi e ci sono centinaia di denti di metallo che stridono lì sotto. La scala mobile sta subendo un malfunzionamento e se non agisci in fretta la macchina potrebbe averla vinta. Ecco quindi come sopravvivere su una scala mobile malfunzionante. Probabilmente sai come funzionano le scale mobili. Sono ovunque e soltanto in Italia ne puoi trovare circa 10.000. Nel mondo le persone usano le scale mobili 90 miliardi di volte all'anno. Non si tratta di una tecnologia nuova. Nel passato i costruttori ne usarono una fatta di blocchi di pietra e tronchi d'albero per costruire la grande piramide di Giza. Jesse Rino ha inventato le scale mobili moderne nel 1859 usando la forza a vapore per muovere il nastro trasportatore. La prima scala mobile per uso commerciale fu costruita nel 1897 mentre la scala mobile di metallo, che conosciamo tutti, è entrata in funzione a partire dagli anni 20. Oggi le scale mobili sono di tutti i tipi e di tutte le forme. Una delle più grandi si trova a Hong Kong. Questa scala mobile all'aperto viaggia per 800 metri e trasporta più di 85 mila persone al giorno. La scala mobile più piccola del mondo si trova in Giappone e occupa ben 84 centimetri di suolo con soli 5 gradini. Ma le scale mobili non sono solo per le persone. Possono spostare anche i carrelli della spesa. Anche se le scale mobili sono dei macchinari comuni, possono essere molto pericolose. Si stima che siano 17 mila le persone che ogni anno subiscono danni a causa di una scala mobile. Nel 2010, le persone che stavano usando la scala mobile della metro L'Enfant Plaza di Washington DC hanno sentito uno strano rumore. All'improvviso, il macchinario è iniziato ad accelerare e le persone sono state scaraventate a terra, finendo le une sulle altre. Quindi, se ti trovi su una scala mobile, perché è meglio indossare scarpe da ginnastica o sandali? Come può il pulsante rosso salvarti la vita? Saper saltare in alto può esserti utile. Le scale mobili possono farci risparmiare il tempo necessario per salire le scale, ma qualsiasi macchinario può danneggiarsi in ogni momento. Ecco alcuni consigli su come sopravvivere su una scala mobile malfunzionante. 1. Vestiti per l'occasione Potresti pensare che la tua sicurezza su una scala mobile non dipenda affatto dal tuo abbigliamento, ma ti sbagli. Prima di usare una scala mobile, controlla la lunghezza dei lacci delle tue scarpe, dei tuoi pantaloni o della tua gonna. Lacci delle scarpe slacciati o tessuti che toccano il pavimento possono rimanere incastrati nel meccanismo della scala mobile, causandoti dei seri danni. Quindi, prima di salirci, allacciati bene le scarpe. Se indossi dei vestiti che toccano terra, tienili sollevati per la durata del viaggio sulla scala mobile, evitando che tocchino i gradini. 2. Tieniti forte Anche se le probabilità di un mal funzionamento alla scala mobile sono basse, meglio essere preparati. Se ti trovi al centro della scala mobile, separa i piedi allineandoli all'apertura delle spalle. Questo ti farà restare in equilibrio. La maggior parte delle scale mobili è dotata di una ringhiera motorizzata su ciascun lato, quindi tieniti bene alla ringhiera per aver maggior stabilità. Grazie al bilanciamento del corpo, hai più probabilità di mantenere l'equilibrio in caso di un improvviso malfunzionamento. 3. Preparati a saltare Se la scala mobile accelera improvvisamente oppure cambia direzione, dovrai avere i riflessi pronti. Innanzitutto, rivolgi il tuo corpo nella direzione verso cui la scala mobile si muove. Se c'è un cambio repentino di direzione, devi girarti anche tu. Se ti trovi in prossimità dell'inizio o della fine della scala mobile, prova a raggiungere le estremità in corsa. Se non puoi correre o se la direzione cambia improvvisamente, fai attenzione alle altre persone. Se stanno venendo scaraventate a terra oppure in fondo alla scala mobile, cerca di tenerti forte per non fare la stessa fine. Non solo ti faresti male, ma faresti del male agli altri. Potresti dover scavalcare le persone a terra o saltare in un'area vuota. Oppure, se ti è possibile, aspetta che la scala mobile si avvicina al suolo, quindi scavalca la ringhiera e allontanati. Tutto questo ti sarà più semplice se indossi sandali o scarpe da ginnastica. 4. Guarda davanti a te Molte persone salgono sulla scala mobile con le mani piene di oggetti e fissando lo schermo dei loro telefoni. Per sicurezza, cerca di non fare nessuna delle due cose. Ricorda che ti trovi sopra una lunga serie di denti di metallo affilati. Presta attenzione a gradini traballanti o a suoni strani che potrebbero significare che c'è qualcosa che non va. Nel 2015, una donna in Cina ha perso la vita mentre salvava il figlio su una scala mobile. Aveva notato l'assenza di una delle piastre metalliche che componevano i gradini. Dopo aver spinto il figlio piccolo lontano dalla buca, lei stessa vi è precipitata e la caduta l'ha uccisa. 5. Cerca un pulsante rosso Solitamente esistono dei pulsanti di emergenza sia in fondo che all'inizio della scala mobile. La maggior parte dei pulsanti di emergenza è di colore rosso e si trova sul lato destro della scala. Se vedi una persona in difficoltà o noti un malfunzionamento della scala mobile, premi quel pulsante. Grazie a questo gesto, eviterai potenziali feriti e danni. Adesso sai cosa fare nel caso una scala mobile subisca un malfunzionamento? Ma cosa succederebbe se un altro noto mezzo di trasporto si guastasse come un ascensore? Immagina di trovarti al suo interno. Cosa faresti se questo iniziasse a precipitare? Sarebbe possibile sopravvivere a un evento simile? Forza, scendi subito al quarto piano per guardare un video su come sopravvivere a un ascensore in caduta libera. Qui su come sopravvivere.